ciao ragazzi questo è il meteoceino che ormai mezzo italia conosce ma questo conta chilometri tx max 300 chilometri orari fischia se vi dico dove l'ho trovato è uno spettacolo preciso no preciso di più certo gli arrivava un po di a salute baci nemmeno in discesa da dei monte bianco arriva a 300 chilometri orari comunque quindi da un massimo di 280 questo è un conto chilometri tx e come vi ripeto non vi dico dove l'ho trovato ma non è preciso di più raga il video dura poco perché era questo e c'è da sistemare anche questa area qui è questa la omigarba la omigarba niente ora non lo accendo per non litigare i copicini dai malossino 300 chilometri orari tx è tutto ciao raga se vi è piaciuto questo video non si parla di altre cose perché mi hanno detto evita di parlare sempre di altre cose persone comuni luoghi eccetera niente da ammire è tutto domani si farà i video della vespina pk che ancora lì i pezzettini si va a prendere dalla sabbiatura e ci si aggiorna domani ciao ragazzi ciao a tutti